Buon pregato eh, signore ma aspettavate l'asso? Ma ci pregate o no? E questa è la cosa più divertente dello spettacolo signore, questa è venuta bene? Buonasera a tutti, buonasera, 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 grazie, grazie per questa presentazione, si sono un massimo, grazie. Lascio a te, lascio a te, lascio a te, in ottime mani, passiamo a lasciata a Nato perché posso combinare i disastri. Buonasera, buonasera a tutti, allora che bello, ma tutta la serie di telefonino no? Tutta il pomeriggio? Allora, allora, giusto prima di salire qui due istruzioni per l'uso di questo spettacolo, come sapete questo è uno speech così che dura tre ore e quaranta. Questa è una serie di sette mesi, ci avete da fare no? Qual è il problema? Voglio dire, siamo qua, tra di noi. Allora, tutta la prima metà di questo spettacolo è in greco antico, solo la prima metà. Il secondo però è in napoletano, come se no? Che per quello già più ci appartiene.